Siamo con Gianfranco Russo del CSRB Una sconfitta per 3 a 2 Arrivata un po' malamente Nel senso che eravate riuscite a recuperare Entrambe le volte che eravate andati sotto Avete rischiato anche all'ultimo il pareggio Cosa è mancato? Peccato perché come dicevi tu Per due volte siamo riusciti a recuperare il punteggio Ma ci è mancato quello spunto per andarla almeno a pareggiare Che un punto oggi sarebbe stato prezioso su questo campo Rispetto all'inizio stagione state comunque migliorando il vostro gioco C'è un po' più di giropalla Cosa manca? Cinismo? Un po' di cattiveria là davanti? Sì, diciamo che quest'anno siamo partiti con una squadra sperimentale Con tanti innesti nuovi Adesso ci stiamo conoscendo Stiamo imparando a giocare insieme E piano piano si vedono i miglioramenti Sono convinto che andando avanti Nel corso dell'anno miglioreremo ancora Avete un calendario difficile? Vi rimangono il CGF Gardening e San Carlo Bettola Ti chiedo se è importante riuscire a far punti Nella prima parte del girone di ritorno Per evitare di rimanere con queste ultime partite difficili In cui probabilmente vi giocherete un po' la vostra stagione Sì, sicuramente cercheremo di far punti Queste ultime due partite che ci mancano Chiudere bene il girone di andata Poi puntiamo a fare una buona preparazione A inizio gennaio Cercare di portarci avanti Fare punti nelle prime partite di ritorno Per arrivare a una salvezza Speriamo tranquilla Verso la fine del campionato Grazie mille, in bocca al lupo Grazie a voi Grazie a voi